Abbiamo scoperto in queste settimane, in questa trasformazione di Monti in politicante a 18 carati, che perfino la questione di correttezza elementare del conflitto di interessi è scomparsa. Cioè Monti ha chiamato a Palazzo Chigi come consulente del Presidente del Consiglio Enrico Bondi, che è stato il commissario liquidatore della Parmalat per fare l'organizzatore della Spending Review. Bene, questo è uno che sta lavorando con il governo, quindi è un consulente pagato dai cittadini italiani, lo chiama niente meno per fare il supervisore delle liste elettorali di quella a Cozzani, Bondi, ma Bondi seguiva il latte, la Parmalat, i latticini, la zootecnia. Questa è una cosa che veramente mi incuriosisce, sono molto curioso di vedere quali saranno i risultati di Bondi, cioè un farmacista che mi ha messo lì a vedere le viste chi va bene e chi va male. Vorremmo ricordare sobriamente, magari mettendoci l'Oden, che c'è un piccolo conflitto di interessi, uno che lavora per il governo pagato dai contribuenti italiani, non può lavorare per soggetti privati contemporaneamente, si dimette da consulente e poi diventa consulente di Fini, di Casini, di Riccardi, di quell'altro, di Montezemolo, il futuro prossimo, Remò, lo può fare. Ma come si fa a non rendersi conto che si sta, come dire, assumendo un elemento di scorrettezza istituzionale che non è tollerabile? Questo scivolare verso la scorrettezza è confermato dall'uso della Presidenza del Consiglio, cioè viene usato il sito della Presidenza del Consiglio per pubblicare i manifestini elettorali di Monti in quanto candidato. Proseguiamo un altro secondo con Monti, a questo punto merita un trattatello, diciamo, perché la trasformazione è davvero clamorosa. Ricordate qualche mese fa l'agenda Monti? E io ero molto incuriosito, l'agenda Monti era diventata una specie di sostituto del Vangelo secondo Matteo. Uscivano la mattina con l'agenda Monti per andare a dire la funzione. Ora, voi potete ricavarvi, se non avete niente da fare una giornata fra un azeppolo, uno struffolo, un panettone, vi richiamate l'agenda Monti dal sito di Monti. E' una tale accozzaglia di scemenze che uno fa fatica a crederci. Fa fatica a crederci. Credo che nella penultima pagina, penultima o terz'ultima pagina che vi scaricate, ci sono due frasi ripetute nella stessa pagina. A proposito della giustizia e del conflitto di interessi. Noi dobbiamo rintrodurre il reato di falso in bilancio per condordare. Dieci righe sotto. Si ripete la stessa frase. Noi dobbiamo cambiare la legge per il conflitto. Cioè hanno fatto il copia e incolla. Non hanno neanche riletto il testo finale. Se vedete anche graficamente, è proprio incollato, appiccicato. Azzeccato, diremmo in termini tecnici. Cioè gli hanno fatto un capitolo sull'ambiente, il capitolo sulla famiglia, quello sulle pagina. Nessuno si è letto il testo finale per coordinare. C'è una sola cosa chiara. Che vuole ridurre di un ventesimo l'anno dal 2015 il debito pubblico dell'Italia, che è 2.000 miliardi. Che significa, se faccio bene i conti, 100 miliardi l'anno. Su 2.000 miliardi. Comunque, parliamo di decine di miliardi di euro. E dove li prendi? E per ridurre questa massa debitoria vendiamo il patrimonio. A chi lo vende il patrimonio? A tua nonna, a chi lo vende con questi chiari di luogo. Qui non si venderanno più neanche gli attici con vista sul Colosseo. Tranne Scajola, ma insomma. Però sono cose particolari. Continuando, lo vediamo per televisione. Ora immaginate un paese dell'Occidente, no? Un paese dell'Occidente nel quale uno si candida ad essere presidente del Consiglio. Leader politico. Si candida a governare quel paese e però non si candida all'elezione. Oh Gesù, ma questo è un altro manicomio che aspettavamo solo Monti per introdurlo in Italia. Un manicomio del genere ancora non lo avevamo conosciuto. Dice, ma è senatore a vita. Beh, di me ditemi. E che succede? E di me si spogliano pure i predi, i monsignori. Si riducono allo stato laicale. E quindi anche uno che si presenta come un frataccione, tutto sommato, si potrebbe pure diventare. Si candida. Se si deve fare un confronto politico televisivo, no? Abbiamo visto rispetto alle primarie un confronto, Renzi, Bersani, gli altri candidati. Beh, una cosa civile. Ora per confrontarsi con Monti, che vuole far dire come si fa? Perché lui Formale non è candidato. Quindi se vedete per televisione, va e parla solo lui. E ma mica va bene. Uno può anche mettersi in l'Oden, ma poi la democrazia ha delle regole elementari in tutto l'Occidente, dove magari non si mettono in l'Oden, ma la democrazia la rispettano. E quindi noi avremo, infine, nell'ultima settimana, quello che a me appariva anche una persona molto garbata sul piano personale, ha cominciato a scivolare anche sul piano della volgarità personale. Lasciamo perdere la polemica Fassina, Vendola. Teniamo sempre conto che Vendola è stato eletto dalla maggioranza dei cittadini della Puglia, diversamente da Monti. Quindi abbia pazienza. Può piacere, non può piacere. E' frutto di un voto democratico, così come uno dei suoi esponenti politici, Pisapia, fa il sindaco di Milano. Non è che fa la rivoluzione armata a Leningrado, a San Pietroburgo. Fa il sindaco della principale città industriale d'Italia. Rispettiamolo. Poi nel merito si è d'accordo o non d'accordo, per carità. Ma al di là di questa polemica politica, fa una polemica con Brunetta, facendo riferimento alla statura di Brunetta. Allora questa si chiama volgarità. Questi si chiamano sepolcri imbiancati, con un'immagine rispettabile, ma con una totale e insopportabile ipocrisia. con una sostanza di falsità che abbiamo scoperto in un mese di trasformazione che è sinceramente sconcertante, sgradevole e imbarazzante. Cioè tu fai la polemica con Brunetta, la statura accademica. E basta. Non è veramente perso la testa. E hai tante cose da dire per fare polemica con Brunetta. Devi scivolare su questo piano di volgarità.